Era amante della musica leggera, lei era una fan di Claudio Baglioni e io la prendo sempre in giro. Il giorno che Emanuele è scomparsa era il 22 giugno 1983. Ricordo ancora il caldo che faceva quel giorno. Bentrovati amici, continua in tutta la regione del Lazio l'alta pressione africana che porterà giornate bollenti in tutto il territorio. Al centro di Roma si registrano le temperature di 1.7 gradi. Grazie a tutti.